e e abbiamo perso cosa? un telecamere guarda si guarda 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 che è lì ok guarda mi sa che non vuole che si sia inclinato ah eh cazzo suoi è volata la telecamera eh dobbiamo fare a l'ultimo a la a a a E' un'altra cosa? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.